Il mio nome è Alessandro Fonseca, sono amministratore della tenuta Case Nuove. Nella nostra recente storia abbiamo compreso come questa tenuta posta tra i 360 e i 500 metri sul livello del mare offre un ventaglio incredibile di qualità nel prodotto che andiamo a esprimere. Case Nuove ha un'unicità, laddove come nel passato affacciandosi da questo punto panoramico a 500 metri sul livello del mare che guarda la valle della Pesa si possono osservare queste quinte quasi di teatrali che sono rappresentate dalle nostre colline, dalle nostre vallate e dai nostri vigneti. La sensazione che colgo nel momento in cui rimuovono i vigneti è quella di poter assorbire nel momento in cui percorro i vigneti qual è l'evoluzione della fase vegetativa della pianta.